ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay it a oggi siamo su zombie cure lab un gioco che mi hanno proposto mi ha contattato matteo e mi ha proposto di provare questo titolo ed è molto particolare perché è un simulatore di colonie dove però a differenza di altri giochi tra cui dei abilions piuttosto che diplomacy is not an option non dovremmo uccidere gli zombie ma curarli perché l'obiettivo dell'umanità insomma di riportare tutti gli zombie a uno stato umano e se guardate la pagina steam del gioco vedrete proprio hanno messo una gif con l'evoluzione dello stato zombie fino allo stato umano lo iniziamo vediamo che qua a giugno aggiungeranno le sue strading il gioco passerà poi in una versione dovrebbe passare in open beta e per poi uscire nel 2022 in early access allora la prima cosa che dobbiamo scegliere beh ho visto che le mappe cambiano a ogni partita dobbiamo scegliere la zona di carico scarico la landing zone sarà anche in italiano se leggete su steam allora qua lo scienziato ci dà il benvenuto lo proviamo per la prima volta quindi diamo un po un'impressione così generale ma mentre il gioco deve essere ancora appacciato portato avanti insomma però ringrazio ancora matteo per avermelo fatto scoprire perché sennò mi sarebbe sfuggito e fatemi sapere se invece voi lo conoscevate già o lo scoprite con questo video benvenuto al benvenuto leader della spedizione grazie per aver condotto la costruzione di questo nuovo muse laboratorio che cura gli zombie insomma nel nostro mondo un nuovo obiettivo piazza il main storage va bene dai lo seguiamo allora dobbiamo impiazzare vedete non troppo lontano il centro diciamo lo storage insomma il magazzino aspettiamo l'elicottero che arrivi tra l'altro non credo non c'è un menu dove poter alzare si può solo dire all'audio ma non c'è molto audio qui poi potremmo costruire le varie cose eccolo che arriva questo drone volante che scarica un container con all'interno tutti i nostri scienziati mi ricorda un qualcosa tipo two point hospital o un theme hospital theme park insomma con il tono diciamo un po divertente di questi personaggi ora dobbiamo costruire il resource camp quindi andiamo sulla modalità costruzione abbiamo le fences no facciamo production resource camp mettiamo qua ok adesso scamp ci chiede venti di legno qua sotto invece vediamo che adesso tra l'altro stanno iniziando ad andare vediamo le risorse siamo tutti eccitati vedere i tuoi progressi il legno che raccogli dovrebbe andare bene per il nostro le nostre casse qua vedete sotto le risorse il cibo il legno abbiamo la pietra il metallo la tecnologia il pila di silicio e punti ricerca qua abbiamo l'energia le batterie abbiamo il fertilizzante il gel pack il ferro i prodotti chimici e le glow bearers sono delle bacche che emettono una luce abbiamo costruito questo dobbiamo costruire build howling post quindi il dove i lavoratori diciamo partono e vanno a raccogliere le varie merci quindi inizieremo a costruire anche questo il momento cliccando su un personaggio vedete che cosa sta facendo vedete il suo mood è felice o meno il suo livello di sonno di comodità e di fame praticamente dice sta andando bene non ci sono infortuni finora le cose possono essere un pochino stressanti per i tuoi silenziati vabbè quando si aspettano orde senza fine di zombie che arrivano dai tunnel ogni notte è meglio tenere tutti riposati e comodi quindi ma abbiamo bisogno di trattarli bene insomma va bene dobbiamo costruire una cucina e un dining table quindi la ma la facciamo tutto così all'esterno qua abbiamo power pole la car battery no vediamo un po corridor door kitchen facciamo una cucina quindi iniziamo la costruzione del nostro bella la mappa vista così dall'alto facciamo una cucina facciamo così dire che va bene kitchen 120 e la costruiamo e vediamo un attimino come come funziona dobbiamo fare poi bedroom and wooden baths e poi e bedroom e build couch vediamo vediamo qua abbiamo kitchen door dining table a quali piazziamo tutto ok qua abbiamo sì solo la kitchen troviamo la science room la porta il tavolo da ricerca no la bedroom dobbiamo fare quindi faremo una bedroom anche qua qua dietro magari così magari bedroom e poi piazzeremo anche le porte e poi in fondo abbiamo la skill training room con la possibilità di allenare i nostri i nostri personaggi insomma e vediamo vediamo come come viene non c'è un audio molto forte qua non si può regolare nulla quindi purtroppo dobbiamo sentire proprio solo quasi solo la voce la mia vediamo intanto sta ancora subendo l'edificio ha una porta no dobbiamo piazzarla la porta giustamente quindi torniamo sulla kitchen e pensiamo la porta qui e poi piazziamo sulla il dormitorio una porta magari laterale qui non finire il legno se no dobbiamo andare a farlo comunque bella grande qua allora dobbiamo costruire nella cucina il dining table quindi lo facciamo subito e non possiamo farlo perché la stanza non è ancora pronta quindi no ma parte che non va messa lì ma va messa qui infatti come la fa fare perché la cucina qui e poi la bedroom con sei letti build couch non so cosa sia comunque poi se andate a vedere anche su steam vedrete proprio in laboratori immensi costruiti qui perché poi assalteranno gli zombie e quindi arriveranno dal tunnel tunnel che tra l'altro ricorda molto daylight e noi dovremmo ho visto immagini dove si spruzza diciamo un gel per curarle quindi non si non si vanno a uccidere ma si curano gli zombie idea proprio originale secondo me allora iniziamo con wooden bed couch couch non so cosa sia un divano ok dobbiamo fare sei letti quindi facciamo uno due tre quattro cinque sei e un couch lo piazziamo rotate lo mettiamo magari qui cazzarola non è grande abbastanza mettiamolo lì l'ho organizzata un po male ma va bene dai stanno piazzando abbiamo finito praticamente il legno mannaggia il legno è finito dovrò capire come dargli un ordine di andare a scavare a tagliare legna ok possono se io clicco sul legno dovrei capire un attimino perché qua non spiega nulla vediamo perché il legno è finito mannaggia me container il trading di risorse non c'è ancora allora praticamente qua possiamo dirgli di andare a raccogliere del legname harvest e gli posso dire che cosa immagino sì di tagliare la legna ok questo gioco non me lo spiegavo ma l'ho capito da solo quindi ottimo si può anche scavare questo che è l'electricity box non so cosa mi dà però vabbè qua ci facciamo il legno che ci manca è bello perché allora non è ancora uscito non è ancora lì negli access ma mi sembra ottimizzato bene cioè non vedo problemi bella anche questa cosa dello storage con le batterie sul pannello solare un po' rotto un po' tenuto insieme col nastro interessante divertente allora adesso abbiamo fatto del legno quindi possiamo andare a finire il lavoro che stiamo facendo guardate tutti come collaborano nel fare questo lavoro questo sta trasportando due in a job sta trasportando qualcosa che sono le bacche blu e questo invece sta andando a demolire questo pannello qua questo pannello di elettricità perché il mondo comunque è post apocalittico quindi allora cliccando sul couch vi posso darvi la priorità ma lo stanno già facendo quindi direi che è forse uno dei giochi in cui non devo stargli dietro e dirgli no finisci quello finisci quell'altro ma lo fanno da soli quindi allora appena abbiamo finito il couch cortesia ah forse non c'è abbastanza 60 infatti non ne abbiamo adesso arriva la legna credo vi ho portato legna sì 74 adesso posso andare a finirlo perfetto bello come chiedono premono il tastino sul crafting table ed esce il legno perfetto grande attualmente hai costruito una sorta di laboratorio volessi costruire una ringhiera insomma un cancello una palizzata e forse qualche dispenser di palli di neve non sei d'accordo? sì allora well off your headquarter build wooden gate ok allora costruiamo la difesa wooden fence cavoli mi servirà un sacco di legna immagino vabbè facciamola così 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 poi buttiamo giù quello lì e giriamo su di qua perfetto e la fence la mettiamo qui facciamola così va ok allora adesso con questo dico di abbattere anche questo che è molto importante perché dobbiamo finire intanto loro stanno già costruendo non so quanto mi serva per costruirne uno ma tre ok non è tantissimo e a sto punto diamo anche l'incarico di abbattere anche questo così e anche questo e poi facciamo anche il cancello wooden gate che piazziamo magari qua davanti così l'avrei piazzato qua era più figo però va bene dai acceleriamo un pochino il tempo così almeno passiamo avanti e vediamo cosa succede perché qua vedete che sta arrivando la notte e non mi dà niente di 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 difesa credo perché non ho ancora strumenti di difesa però vabbè intanto i lavori stanno andando anche abbastanza bene perché stiamo abbattendo l'albero appena abbiamo abbattuto quest'albero qui gli do l'ordine di piazzare la palizzata che manca siamo messi in che piuttosto bene come legno quindi dovremmo riuscire a fare bene o male tutto hanno già fatto il cancello senza avere la palizzata geniale e mi dovete abbattere quello però ok grazie portano via il legno ed è bravi arriva la notte siamo in notte fonda ma non non arriva nulla premete tutorial che non tutorial che tutorial al fine un certo punto non mi oddio no sentono musica un po' inquietante non arriva nessuno quindi ok no dobbiamo finire di costruire devo dargli l'ordine di demolire sto cosa assolutamente sopra ogni cosa perché se no mi resta la ok ho dato la stellina quindi praticamente oltre a ogni cosa faranno l'abbattimento di quell'albero lì perché se no non e ne ha dentro parecchio è di legno perché il ne ha dentro un bel po' ne ha dentro 300 quest'albero cioè gli alberi sono veramente duri da da spolpare di legno vuole un bel po' ok l'hanno fatto ah ok la mi ha tenuto la fence qui ok l'aveva già piazzata quindi non devo piazzarla io dai che pian piano adesso abbiamo un sacco di legno quindi pian piano adesso costruiremo dovrebbe esserci anche il modo di work estate no vediamo un po' cos'è questo ah si ok le priorità dobbiamo anche capire come dare gli ordini ai nostri allora questa è lo zombie la minaccia perché più sale la dimensione credo del laboratorio più la minaccia sale comunque 083 è una minaccia quindi ma non so sarà da capire un attimino poi spero che comunque poi lo sviluppatore magari verrà a vedere il video insomma darà qualche suggerimento magari anche in previsione del rilascio comunque degli access che magari andremo anche a fare in live e mannaggia anche questo qui sta creando problemi quindi priorità massima e abbattete quello che tanto quello è quasi spolpato del tutto io adesso quasi quasi toglierei la lavorazione di questo perché no cancella oggetto no vedete che qua potete scegliere anche se farli lavorare di giorno o di notte e che tipo di cose raccogliere molto interessante sul container invece non c'è gran che umani zombie 1 zombie 2 zombie 3 sono i tre stadi della della zombificazione credo l'aula in post si è quello che abbiamo visto che invece questo è lo spostamento diciamo delle risorse che restano magari a terra e vengono messe al posto giusto comunque dovete finire questo priorità e poi finite anche tutto l'arresto ok avete abbattuto ok perfetto io direi se possibile no non è possibile dare una priorità no riparia no work state click ok posso dargli priorità questo di costruzione ok priorità più alta perfetto infatti abbiamo finito bello si è intuitivo è intuitivo devo dire perché mi ricorda anche un pochino quello che abbiamo visto su oxygen not included sì però vabbè mi tagli la legna ma ne abbiamo 820 cavoli abbiamo per finire tutto quello che serve per finire il poi probabilmente a velocità normale avremmo fatto molto più lentamente ma in questo caso dato che non c'è altro da fare andiamo abbastanza tranquilli lo storage electricity production si ne produce 20 infatti si si vedeva la produzione 20 e le batterie perché è incluso in questo storage la produzione appunto di energia sarà figo dopo alimentare tutto e quando un base builder insomma colony builder ha la gestione dell'elettricità già mi piace ma per scendere power grid ha perché possiamo averne più di una molto promette molto bene questo gioco devo dire sia dall'idea originale che comunque ci sta però dobbiamo ancora vedere come funziona effettivamente qua vabbè scaveremo anche la roccia quando servirà al momento andiamo avanti di legna abbiamo così finito ci manca l'ultimo l'ultimo pezzo credo ok il nostro capo ingegnere Stefan Baumeister è orgoglioso della palizzata che hai costruito sembra vero veramente solida continua a preparare per la notte ok build science room and build research table ok allora questa è la zona di residenza diciamo adesso costruiamo fortuna non l'ho fatta piccola piccola facciamo la stanza di ricerca quindi molto bene la science room la facciamo qui con il research table ah no ma mannaggia mannaggia devo fare science room con la porta qui e il tavolo di ricerca che piazziamo qua in fondo alla stanza molto bene iniziano a costruire beh ormai abbiamo un sacco di legname 1200 quindi direi che ci sta bello bellissimo mi piace molto per quanto io non sia un appassionato di tower defense questo non è un vero tower defense nel senso che in teoria non dovremmo uccidere però mi piace proprio a livello grafico e a livello proprio di costruzione fa venire voglia proprio di piazzare bene l'accampamento farlo funzionale ovvio che qua andrà espanso poi perché lo spazio è limitato anzi io direi che potremmo tra poco quest'albero se ne va poi mi chiedo sì sarà possibile spostare gli oggetti quindi lo sposteremo questo campo qui la all in post e li metteremo in un luogo un pochino più console magari qui o qua a fianco in modo che qua ci resta più libero lo storage non si può spostare no potremmo spostare vediamo questi due magari li mettiamo qua sotto ci resta tutta questa parte tutta questa parte per poter costruire comunque e vai tanto scuse non ce ne sono sta arrivando la notte probabilmente stanotte arriverà qualcosa qualche invasione o qualcosa del genere ok quello che abbiamo costruito ora ci manca la search table così accederemo anche alla ricerca e vedremo un attimino quale sarà la potenzialità di questo gioco il progresso scientifico è stato fatto sono molto felice di vedere che il tuo laboratorio prospera con un po' di difese potremmo tenerlo in piedi no? build a bello breezer build a snowball dispenser ma non ce l'abbiamo nelle difese credo infatti e se noi andiamo sul pannello della ricerca abbiamo qualcosa aspettate un po' research board ok freezing zombie treatment produzione elettricità questa è troppo per dire non è ampissimo eh no però insomma c'è l'uno il due il tre decoration che aumenta diciamo l'umore il mood questa è l'evoluzione del quello che abbiamo al momento no io farei freezing zombies quindi below breezer che dobbiamo fare questo e ah usiamo le bacche le bacche per produrre ricerca bacche ne abbiamo 20 e produciamo ricerca beh io ci metto una priorità a questo comunque research table voglio capire adesso come cavolo fare la ricerca perché devo cercare questo e questo snowball dispenser eh ci costa 60 ci costa ok non possiamo farlo però vabbè adesso magari diamo un compitino al research di andare a prendere delle bacche blu che sono queste qui e queste qui che ce ne sono netto un sacco in maggio 40 beh danno anche tantissime ma globe r con le globe r noi facciamo ricerca quindi più ne accumuliamo e più facciamo la ricerca poi ci sono tutte meccaniche che sicuramente verranno rifinite verranno ottimizzate verranno cambiate quindi servirebbe un altro cancello qua perché è un po' lunga la cosa ma vabbè la metà ti finiscono per terra però eh beh intanto ne abbiamo 60 dovremmo poter fare la ricerca adesso se la memoria non mi inganna allora vediamo un po' 60 60 di ricerca no dobbiamo produrre la ricerca ok ok ma producetela però no allora overview ok di tutte le persone lavoro dovremmo andare a dargli un lavoro magari dargli capire come dargli un lavoro priorities massima assignment ok research table perfetto ok ho assegnato qualcuno perché poi potremmo segnare anche i semi zombie insomma vabbè produciamo punti di ricerca ok sta già producendo perché c'è già lì qualcuno uh sta arrivando no non sta arrivando nessuno è uno dei nostri che poi attaccheranno dobbiamo piazzare le difese quindi sta ricercando abbiamo 8 punti di ricerca ce ne servono molti di più 11 dai ne servono parecchi 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 60 60 60 60 e 50 ce ne servono 110 e di bacche ne abbiamo 220 beh adesso dovranno dormire quindi dormono tutti tranne alcuni che restano fuori perché probabilmente il gioco c'è già diviso turni di giorno e di notte credo quindi bello però il laboratorio proprio rudimentale con i fili c'è una cura proprio nel dettaglio che veramente apparezza anche qui i pannelli qua ricompensato bello 29 30 e dovremo vedere un attimo che cosa si riesce si riesce a fare l'altro sarà da vedere la difesa del luogo come verrà comunque qua abbiamo raccolto le bacche quindi ricresceranno abbiamo bisogno di altre bacche quindi cerchiamo le bacche qua e qua non devo cliccare su altre cose perché poi mi si mette a tagliare gli alberi e mi si impegna la gente ok 43 dai 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 intanto ricerca poi mettiamo a costruire perché sicuramente se arrivano vediamo da dove possono arrivare ci sono tower defense 4 uscite probabilmente o 3 2 3 3 3 1 in alto 1 di qua 1 qua sotto mi pare ma anche su questo lato meno che non è qua in fondo no su questo lato non dovrebbe esserci infatti sono 3 uscite quindi bisogna capire dove 55 dai che ci siamo quasi e iniziamo a sbloccare quello che li congela però non abbiamo nessun impianto di trattamento quindi 59 dai che ci siamo 60 ok possiamo ricercare il below blazer un crudo congelare l'acqua produce munizioni ok fatto speso tutto e adesso la costruiamo dovrebbe essere sotto difesa no production production no devo capire come fare come costruirlo below build no 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 nulla 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 mannaggia devo capire come costruirli build ah ok quello l'abbiamo ricercato immagino no si e adesso cerchiamo l'altro ma questo come lo costruiamo ah qua l'ha messo l'ha messo qua ok below blazer cioè devo capire come funziona mettiamolo qui ma non so come funzioni vabbè vediamo che cosa chiedere per la costruzione della pietra ottimo l'abbiamo costruito ok e questo produce proiettili usando dell'acqua non abbiamo cibo mi sa che qua mi va in vacca tutto adesso non abbiamo cibo è il classico perché in tutti i giochi io poi finisco a morire ok allora prendi questo vai e prendete cibo assolutamente cibo cibo no gli alberi no vabbè fate quello che volete cibo 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 e bacche ce ne sono via perché immagino che non siano proprio felicissimi di non mangiare sono incazzuolati neri infatti allora intanto stiamo andando verso la e dobbiamo prendere anche delle rocce ma vabbè intanto questo sta scavando sta tagliando il dovremmo fare anche un po' di non riesco a smettere di giocare prendere un po' di pietà ok allora intanto ci siamo quasi di là ci siamo quasi cibo non ne abbiamo ma adesso ci piazziamo anche un cancello anche qui perché è proprio scomoda la cosa quindi tac tac cancello qui ok allora intanto dovrebbe salire il cibo adesso perché l'abbiamo recuperato a me che non vada proprio a mangiarselo ok 37 sì ok abbiamo sistemato la storia qua dobbiamo piazzarsi della gente 1 che produca ah sì e produce munizioni e adesso tecnicamente c'è un'invasione qua comunque arriverà quindi ci vediamo anche questa invasione dovremmo avere sì quindi andiamo a produrre l'altro il snowball dispenser che poi si evolverà in snow cannon va bene e andiamo a costruire il dispenser che dovrebbe essere su production no su difesa sì a questo punto l'ho messo su difesa e il dispenser ragazzi non lo so lo piazziamo qui ma non lo so vediamo magari ci faranno arrivare tutti lì non lo so comunque ci mancano barre di metallo che non abbiamo sì abbiamo che abbiamo al momento sì sembra sta arrivando vicino al tuo prima il tuo primo attacco siamo fortunati possiamo ok questo qua praticamente dispensa tutto ma non è alimentato perché non è alimentato abbiamo qualcosa da fare per alimentarlo power pole sì praticamente ah figata possiamo alimentare tutto collegando le zone gialle ok così abbiamo alimentato tutto ed è funzionante adesso quindi praticamente qua producono le palle di neve e nel dispenser io segno una persona sarà da capire se turno di giorno o di notte comunque l'orda zombie arriverà a breve questa notte avremo il primo attacco e li congeleremo quindi non useremo violenza sugli zombie ma vedremo perché adesso non abbiamo ancora credo nessun impianto di di trattamento quindi non li possiamo curare però magari li respingiamo ci limiteremo solo a respingerli cibo ce n'è ho mandato anche a raccogliere un po' di rock un po' di orvain e facciamo anche quelli perché fondamentale mi chiedo solo se esista un altro modo di far scavare comunque va bene dai 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 che arriva la notte con la prima ondata la minaccia adesso è alta perché comunque l'accampamento è diventato bello grande produciamo dai un po' ne abbiamo prodotti snow dispenser e non ha niente nello storage quindi adesso l'ha caricato ne ha caricati 20 ah me ne dà qua le munizioni gel pack le munizioni ok quindi ne abbiamo dai questo qui e spero che non attacchino dall'altra perché se no bisogna costruirne altre build treatment chamber sono un pirla ma aveva detto di farlo e io non l'ho fatto quindi adesso andiamo treatment chamber dove è treatment chamber eh ma doveva ricercarla eh sì per forza per forza doveva ricercarla production treatment treatment chamber meat grower snow cannon force pack leg progress treatment chamber 100 ah ok no non l'abbiamo ancora e praticamente qua trasformiamo gli zombie congelati in humble 1 ambi non humble ambi 1 quindi a metà tra zombie umani ragazzi dato che il video sta diventando parecchio lungo io mi fermo qui salvo la partita che non si può salvare e vi chiedo se vi interessa ci faremo magari un altro video un approfondimento insomma dove vi mostrerò come va avanti la partita detto questo vi saluto vi ringrazio vi rimando al prossimo video game play alla prossima ragazzi e ciao ciao ciao